In questa video guida parliamo di microfoni Lavalier. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Il microfono Lavalier è un tipo di microfono che si usa per lo più per il parlato, tipo interviste o notiziari poiché la sua resa sonora è eccellente per la voce. Di dimensioni molto ridotte, pratico e leggero in genere si appunta al bavero di una giacca, ad una camicia o ad una cravatta ma ne esistono anche ad archetto che vanno quindi indossati sulla testa mediante un cerchietto. La sua versatilità lo rende un ottimo prodotto molto diffuso, può infatti essere dinamico, a condensatore, con il filo e anche wireless, e quasi tutti i modelli si concentrano sul suono della voce escludendo i rumori di sottofondo. Grazie a tutti.